nome e cognome alberto stefani sono gianfranco capello ruolo e agenzia sono capo area del trivenet e mi occupo direttamente del sulle venezia giulia io sono responsabile commerciale del piemonte in liguria vale d'aosta da quanti anni sei nel campo dell'automazione industriale dal 2000 quindi 23 anni da oltre 20 anni nel mondo di automazione e 15 anni correre che area geografica segui triveneto il piemonte la liguria e la valle d'aosta qual è la caratteristica del tuo territorio dal punto di vista del mercato allora nel mio territorio c'è un po di tutto ci sono dalle grandi aziende che può essere una daniele ai piccoli artigiani comunque diciamo che ci sono tutto il triveneto delle aziende medio media diciamo il cliente medio piccolo da quanti anni collabori con rare dal 2001 15 anni ti ricordi qual è stato il primo ordine fatto con rare il mio primo ordine fatto con rare dovrebbe essere stato una barriera venduta a un installatore elettrico sì mi ricordo il primo ordine è stato fatto con la vecchia barriera admiral che è ancora presente a catalogo qual è la cosa che apprezzi di più di rare soprattutto che è un prodotto italiano sicuramente poi la serietà dell'azienda la proprietà che è sempre molto presente e l'ambiente che sicuramente un ottimo ambiente per lavorare la famiglia descrivere in tre parole seria affidabile e di qualità qualità italiana style e famiglia come percepiscono secondo te i clienti il marchio rare lo percepiscono come un'ottima realtà italiana in un mondo di stranieri di esteri di colossi esteri con un top di gamma quanto ritieni importante il supporto tecnico di rare per lo svolgimento del tuo lavoro fondamentale indispensabile abbiamo introdotto il nuovo sensore rsafe con quale aggettivo esclamazione descriveresti questa novità diciamo che era ora che arrivasse questo prodotto quello che è successo con questo periodo qua non ha certo agevolato però il prodotto che sicuramente ci farà fare un salto ulteriore quindi strategico qualità e tecnologia qual è la cosa per cui ti senti più fiero della tua agenzia sicuramente per il prodotto che tra un prodotto italiano di alta qualità il supporto che riesco a dare ai miei clienti le tre cose che ami del tuo lavoro il contatto con la gente sicuramente quello è il principale i risultati ovviamente che si hanno il fatto che i clienti apprezzano molto il nostro prodotto il contatto col cliente essere comunque sempre in giro e vendere comunque un prodotto a evoluto contenuto tecnologico raccontaci un aneddoto interessante o divertente della tua carriera sicuramente questa intervista ci devo pensare qual è la tua rare beer preferita la pills tutte la birra è buona da bere tutta a prescindere e cosa fai nel tuo tempo libero vado a correre vado in moto inverno vado a sciare è un po di hobby vado in bici faccio tiro sportivo amo passeggiare con i miei tre labrador mi piace la vita all'aria aperta diciamo dove andrai in vacanza quest'estate spagna mare manda un saluto ai tuoi clienti mandi mandi ciao ragazzi ci vediamo hai un messaggio per i tuoi colleghi grandi persone è stato un piacere passare tre giorni con tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti